Con grande gioia annuncio che il prossimo 24 novembre terrò un consistoro nel quale nominerò sei nuovi membri del colice cardinalizio. I cardinali, come sapete, hanno il compito di aiutare il successore di Pietro nello svolgimento del suo ministero, di confermare i fratelli nella fede e di essere il principio e fondamento dell'unità e della comunione della Chiesa. Ecco i nomi dei nuovi popolati, Mons. James Michael Harvey, prefetto della Casa Pontificia, che è un'anima di nominare arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura, sui appertitudine Bicharaputus Rai Patriarchi di Antiochia di Maronite nel Libano, sui appertitudine di Basilius Clemis Totoncal, arcivesco maggiore di Trivandrum di Siromarancaresi in India, Mons. John Olorunfeme Onayekan, arcivesco di Abuja in Nigeria, Mons. Ruben Salazar Gomez, arcivesco di Bogotà in Colombia, e finalmente Mons. Luis Antonio Tagle, arcivesco di Manila nelle Filippine. I nuovi cardinali, come avete sentito, svolgono il loro ministero a servizio della Santa Sede o qualipati pastori di chiese particolari in varie parti del mondo. Invito tutti a brigare per i nuovi eletti, chiedendo la materna intercessione della Beata Vergine Maria, perché sappiano sempre amare con coraggio e dedizione Cristo e la Sua Chiesa.